segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te da non c'è dubbio io sono convinto che se noi vivessimo in medio oriente noi saremo israeliani cioè non è una questione di religione è una questione di di punto di vista di letteratura per tornare a quello di sì ma è anche la prospettiva che fa distorcere tutto ecco aspetta questo infatti è un discorso l'altro discorso quando dici cosa c'entra il libano non lo dobbiamo decidere noi il punto è in israele nonostante siano stati colpiti in maniera così atroce sono in grado di riflettere lucidamente su delle conseguenze che potrebbero peggiorare la condizione di israele non stiamo parlando se è giusto o no attaccare stiamo dicendo se attacca che succede migliora la condizione di tutti quei civili che vivono in democrazia o la peggiore allora fermiamoci su questa domanda do la pubblicità ripartiamo la domanda